è stata ed è una delle più grandi interpreti di black music lei insieme alle sue sorelle a papà pop staples ha dato vita agli staples singers uno dei sudalizi più straordinari della musica nordamericana e oggi con la morte di harita frank e di sua sorella janice meli staples è a tutti gli effetti forse l'unica grande protagonista di quella musica che affonda le proprie radici nel gospel recentemente ha pubblicato un album dal vivo live in london registrato la union chapel una chiesa lo di londra il miglior posto diceva lei per registrare musica del vivo questo disco contiene una canzone no time for crime non è tempo di piangere che è perfetta forse per consolarci darci conforto ma anche incitarci a fare delle cose perché il ritornero recita we have the work to do cioè abbiamo un lavoro da fare quindi con l'ottimismo la forza la determinazione il coraggio di mavi staples gustiamoci questa no time for cry gotta look at the children y'all gotta look at the children well gotta see about the see about the little babies well well motherless children motherless children yeah oh what a world we're living in it's a mean old world that we're living in taking babies away from their mothers taking babies away from their mothers we've got motherless children oh yeah motherless children i don't know about you but i'm gonna tell you what i'm gonna do i'm gonna march right up to that i'm gonna march right up to that big house we got work to do y'all we got a job we got a work to do we got a work to do we got a work to do ooh we got a work to do ooh yeah 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 Sì Sì